Questa è la storia che avrei voluto raccontarvi. Viva l'Italia! Che schifo! Cosa c'è scritto sui nostri attuali euro? Ve lo dico io cosa c'è scritto! Non c'è scritto niente! Pensate che non ti dava una lira. Credevo che fossi un grillo parlante che urlava nelle piazze contro il burattino. Come God we trust! Sarai l'unico che non dovrà rinunciare al vitalizio. Tu scenderai in piazza come l'altra volta senza un euro. I tuoi comizi non posso più finanziarvi. Stavolta Elena mi sposa. Ecco, ci risiamo. Scusate ma questo matrimonio non sa da fare. E neanche il vostro complotto. Io e Massimo ci sposiamo. Io non mi metto lì davanti a una telecamera a mentire sfuduratamente agli italiani. Noi io scendo in piazza, capisci? C'ho una persona fidadissima! Un diavolo! E il camaleonte! Qualcuno dei poteri forti, direvo da vincente. Mi temo! Io sono l'unico politico onesto! L'ho scritto pure sul mio logo! Movimento! Movipiglio per il culo! Un saluto ai amici del Corriere dello Sport.it e bentornati sul nostro sito. Un saluto anche a Stefania Capobianco, benvenuto al Corriere dello Sport e a Francesco Cagliardi. Allora, ci siete venuti a trovare per presentare questo film che uscirà nelle sale italiane il 16 maggio, domani, che si chiama Movimento L'Ira di Achille. Allora, io non so bene come si bisogna pronunciare esattamente, però diciamo quello è il senso. Allora, è un film che è una commedia. Si parla di politica, ma non è che si parla di politica. C'entra la politica, ma c'è anche una storia d'amore sotto. Insomma, affrontate vari temi e vari argomenti. Allora, prima di tutto, per scaldarci, chi mi racconta la trama? Stefano, dai! Allora, Movimento... Guardo te, scusami che va bene se vuoi vedere. Vai, vai, vai. Certo, certo, certo. Movimento L'Ira di Achille, questo titolo che è già di per sé tutto un programma, perché movimento politico, perché in realtà noi giochiamo con la politica, ma anche most accato vista, accato mento, ora vi dico una bugia. Anche qui la politica presa in giro in maniera molto, molto leggera, diciamo che partiamo dal principio che alla base della politica ci sia la bugia. Tant'è vero che il protagonista del film, questo Achille al fresco, lo dice e lo scrive addirittura nel logo del suo partito, o ravimento, quindi in fondo è la persona poi più onesta di tutto il film. E parliamo anche di tanto altro, uno spaccato dell'Italia di oggi, c'è quest'Italia cinesizzata in cui tanti cinesi ricoprono importanti ruoli professionali che prima appartenevano a noi italiani. E c'è anche un bel contrasto tra i cinesi che conoscono a volte l'Italia meglio di noi, tant'è vero che la segretaria della protagonista Asia, interpretata da Barbara Bacci, che cosa fa? Li porta a vedere le bellezze dell'Italia e dove li porta? Nei centri commerciali. A un certo punto questi cinesi le diranno, aspetta un attimino ti portiamo noi a vedere le vere bellezze dell'Italia, in questo caso della campagna, e la porteranno sul Vesuvio e gli scavi di Pompei, quindi giochiamo un pochino ironicamente anche con quella che è la cultura a volte dell'italiano medio. E' un film leggero, ironico, che insomma è un po' per tutti. C'è anche, dicevamo, una storia d'amore sotto, giusto? Che è un po' particolare. Una storia d'amore, un triangolo amoroso, tutto giro intorno a questa donna bellissima, questa ricca ereditiera, interpretata da Enrica Guidi, attrice toscana. E lei eredita dal padre un'azienda, una florida azienda, che produce preservativi. Questa è un'idea di Francesco che ha giocato anche un pochino naturalmente su delle battute, insomma alla portata di tutti. E questa ricca ereditiera sta per sposare Achille Alfresco, si sposerà, non si sposerà, chi lo sa, lo vedremo. Però ecco, c'è un sì che viene ripetutamente rimandato. Giocate molto voi con le parole, no? Movimento, l'ira di Achille. Perché l'ira? Perché nel film c'è anche un tentativo di tornare a questo politico, a questo leader del movimento che si vuole candidare per diventare presidente del Consiglio, che vuole tornare alla lira, giusto? E tu non dici sembra un film, invece poi è tratto dalla realtà, perché poi in realtà ci sono questi spunti. Questi spunti, no? Insomma, voi avete attinto molto dalla realtà, immagino, insomma, no? E... E infatti. E infatti. Aspetta, aspetta, adesso facciamo l'aggancio, perché è forse il primo caso nella storia che viene tratto un libro dal film, no? Di solito è il contrario, invece in questo caso... Come è andata? Dimmi un po', Francesco. Non so se è il primo caso, ma sicuramente è tra i primi. O forse il primo, questo lo appureremo. Ritornando alla lira, il poema di Omero è l'apostrofe IRA. Qui abbiamo giocato sul poema di Omero, perché siamo ignoranti, l'apostrofe non l'abbiamo messa. E quindi l'ira di Achille, Achille il protagonista, per un auspicato ritorno alla lira di qualche partito politico momentaneo, appunto. Partiamo da questo presupposto. Che la verità della politica, a mio avviso, è la bugia. Mo-vi-mento è la verità. Il nostro leader, candidato leader, lo scrive addirittura sul logo del suo partito. Quindi il primo politico onesto, giochiamo naturalmente. Ritornando al libro, è il primo libro, quasi sicuramente, che viene scelto, in questo caso anche da un editore importante, Armando Curcio Editore, mi ha commissionato la stesura del libro, che è in tutte le librerie d'Italia, dall'11 aprile. È stata una cosa emozionante. La prefazione l'ha scritta il direttore dello storico giornale quotidiano, la nazione e il telegrafo. Francesco Carrassi. È un film che a me piace tanto. Perché? È un film che si addice anche allo sport. Perché è sempre in movimento. Vabbè, più movimento del calcio e dello sport in generale ci sono poche cose. Qual è stato l'aspetto più difficile? Perché voi l'avete anche scritto questo film, no? Esatto. Qual è stato, insomma, l'argomento politica al cinema è sempre un argomento abbastanza delicato da toccare, no? Voi avete giocato molto sullo scherzo, ovviamente. È chiaro. Ci non sarebbe altro. Qual è stata la cosa più difficile da fare nella scrittura, nel cercare, ecco, di non andare a toccare... Insomma, è un argomento delicato, di non andare a toccare i tasti sbagliati, diciamo. Sì. Come vi siete regolati nella scrittura? Diciamo che questo film non nasce assolutamente come denuncia politica o denuncia sociale. È un film attraverso il quale abbiamo, diciamo, giocato con quello che è una situazione poi attuale, perché naturalmente mastichiamo politica ogni giorno, però, come giustamente dicevi tu, non siamo andati a denunciare fatti politici, movimenti, assolutamente, non è questa la nostra intenzione. La nostra intenzione è quella di raccontare, appunto, una parte dell'Italia, sicuramente una parte a volte anche sofferente, a volte problematica e anche contraddittoria, però l'abbiamo fatto attraverso quello che è il genere commedia, quindi appunto attraverso quella leggerezza che ha permesso anche di ridere su temi importanti. E abbiamo giocato anche molto sulle battute, battute immediate che suscitano una risata liberatoria allo spettatore, ma anche battute molto, diciamo, più intelligenti perché dietro una semplice battuta che può essere di Roncato o di Monterosi, c'è, diciamo, uno spunto di riflessione che molti spettatori sicuramente voglieranno. Hai detto Roncato, no? Perché mi ha interessato molto il cast, la scelta del cast, no? Che è un mix tra giovani e, insomma, personaggi iconici, no? Della televisione e della TV italiana, no? Per tutto, ricordatemi un po' il cast perché non l'abbiamo ricordato, diteci voi... Lo dico io? Vai! Ho la copertina del libro! Enrica, che sono tanti, sono tanti! Enrica Guidi, Giovanni Scifoni, Daniele Monterosi, Benedetta Valanzano, le facciamo i nostri migliori auguri... Tra l'altro, bravo! Infatti, no, perché doveva venire qui oggi, non è pure da venire... E' nata Anita, è nata la figlia, quindi facciamogli gli auguri... Tanti auguri, Benedetta, per la tua Anita che è nata sabato sera alle ore 19.30. Ancora auguri. Tony Spenandeo, Andrea Roncato, Adolfo Margiotta, Antonella Stefanucci, Shiang Shi, Rocco Ciarmoli, lo ricordiamo nelle tutine di Zelig, Alvaro Vitali, il Pierino, Deborah Rinaldi, che è un'attrice stupenda campana, che è proprio in una fase proprio importante della sua vita, perché la richiedono tutti. Ed è un personaggio a cui lo spettatore si affezionerà, perché è la classica ragazza tutta Pepe, che però pensa che Riccardo Terzo sia un secolo, e abbiamo detto tutto. Anche la scelta del protagonista, no? Achille Alfresco, anche su quello avete giocato parecchia, no? Sì, diciamo che probabilmente l'aspetto più difficile nella fase proprio di preorganizzazione del film è stata la scelta degli attori, perché essendo tanti ruoli dovevamo stare attenti a non, diciamo, prendere attori che caratterizzassero, diciamo, troppo, perché è vero che una commedia a volte è un po' sopra le righe, però comunque, diciamo, doveva esserci un giusto equilibrio, quindi molto probabilmente è stato questo, almeno per me, la cosa più difficile nella fase preorganizzativa. Però penso che alla fine, insomma, ogni ruolo abbia avuto il giusto volto che lo ha interpretato. Il film è stato girato in campagna, giusto? Qua rispondo io, è stato girato tra Pompei e Napoli, intanto stiamo al Corriere dello Sport, forza Napoli, e saluto il mio amico, il presidente De Laurentiis, e forza Napoli, anche se simpatizzo per la Roma. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.